Per questo gioco ringraziamo il nostro sponsor BariBlu. Cambiate musica, sono arrivati i saldi di BariBlu. I negozi di BariBlu vi aspettano con tante offerte imperdibili per la vostra estate. Lo shopping ai saldi estivi si farà più entusiasmante e divertente. Sabato 20 luglio tutti i bambini potranno incontrare l'Ampol Miledi dei 44 Gatti. Pensate, BariBlu, strada statale 16, uscita Trigiano, Bari. Seguite la pagina Facebook www.bariblu.com Ci siamo, ci siamo. 3, 2, 1, via, via, coraggio. Dall'alto, 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 non a destra. Dall'alto, dall'alto, bravi, bravi. Dall'alto. Veloci, veloci, dall'alto, dall'alto.